Red, ma quali sono le attività considerate essenziali? Si tratta di quelle classificate in base a certi codici ATECO. E che cos'è un codice ATECO? È una combinazione di numeri che identifica ogni attività economica con le relative sottocategorie dei diversi settori. In queste ore il governo sta limando proprio questo elenco, la cui base è rappresentata dal comparto agroalimentare. Coltivazioni agricole, allevamento di animali, pesca e acquacoltura, industrie alimentari e industrie delle bevande. Manutenzione e la riparazione delle macchine agricole nella logica di una catena per l'appunto essenziale.Così come la produzione di camici e carta che è essenziale all'attività farmaceutica al pari delle macchine per confezionare e che non può fare a meno delle industrie del vetro, della plastica e della gomma. Attive anche la gestione fognaria e quella della raccolta dei rifiuti, oltre alle attività bancarie, postali, assicurative e finanziarie. Secondo alcune anticipazioni non dovrebbero essere inclusi nell'elenco finale il trasporto ferroviario di passeggeri, interurbano, il trasporto ferroviario di merci, il trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, i taxi e gli NCC, gli autotrasportatori, il trasporto marittimo e quello aereo.